E tu testi così la GoPro 13? Ah, cioè tu hai in mano una GoPro 13? Ah, vuoi aprire la scatola? E stai già filmando con una GoPro 13 anche te? Cosa mi combina al massimo adesso? Cosa mi stai combinando? Allora apri la scatola Ed ecco l'apertura ufficiale della GoPro 13 Dove è il mio telefono? Ecco che la prima caduta La prima caduta che mi ha proposto è la GoPro 13 13, sono due, questa è l'altra Oh ragazzi questa La peppa La peppa della peppina GoPro 13 Oh cavolo Prima apertura E finiamo anche Con un altro GoPro 13 Come si apre Massimo? Io so che ne piace Aspetta non voglio dire No rida No rida che mi sto impegnando Attenzione che c'è Ecco Pensi che ci sia dentro tanto? C'è dentro niente Bene Belli sti adesivi qua Bene Lascia pure tutto qua Gli adesivi da la Che gli ha fatti colorati stavolta Oh Finalmente ci ha messo i colori negli adesivi Come pronuncio bene lì Come pronuncio bene lì? Tornando agli adesivi colorati dalla nuova GoPro 13 Spacchettamento unboxing della GoPro 13 Ma scusi ma perché? In anteprima All'arca Poi togli tutti gli stracci Togli tutte le cose lì Apri C'è qui un cosettino qua davanti Ah ok C'è qualcosa che Aspetti un attimo Oh ma che qua ti sta filmando eh Ma io sono molto delicato Cioè pensando che costa più di 400 euro Una camera del genere Di accessori te ne danno pochi Compronta prima Noi aspettiamo eh E la peppa Devo tirare via anche questo? Si tiri via tutto La bellezza di spacchettare tutto nuovo Ma che ora ragazzi E la peppa E la peppa GoPro 13 Attaccavo E adesso bisogna programmarla Bene Adesso ti faccio dire una cosa Sai la cosa bella? Aprila Chi ha? Sotto ci sono dei gancetti È cambiata Guarda bene qua Io ne ho già in mano una Per quello che da due ore Io la sto provando Sono cambiati i gancetti qua E questi cosa servono? E poi è cambiato Anche se per chi è conoscente Di tutte le GoPro Guardate bene all'interno Vediamo come è cambiato L'attacco della batteria Guardate bene com'è la batteria Guardate bene com'è la batteria Guardate la batteria com'è Nera E non più come prima Il GoPro 13 Ha bisogno le sue batterie Senta adesso Lo beviamo il caffè? Adesso lo beviamo il caffè Siamo all'Arcape Ok Lo beviamo il caffè L'attacco Lo beviamo il caffè